Marco Andieri, capiscembro, schienetta, pianoforte, pocarina, eccetera. Percussioni, flauti dolci, pocarina, eccetera. Eletrico, elettronica, voce. Plauti, voce, canto armonico. Andiamo a vedere la chitarra. E Francesco De Ficchi, Serepini, art director, pianoforte. Direttore romano eccessiva, penso. Un attimo di pausa perché erano un po', come dire, bisogna un attimo dei ricarici.